La rosa della vendetta, anticipazioni di domenica 15 settembre dove vedremo Gulcemal rimasto da solo, scontare le ire di Armagan e anche quelle di Deva. Garahana e Ibrahim si incontrano. L'uomo la chiama per la prima volta Firuze, che sembra a questo punto essere il suo vero nome. Ibrahim la rimprovera per non avergli subito detto che Mert vive con loro e per non averlo allarmato subito non appena Gulcemal ha accusato Deva di essere una spia. Firuze si giustifica spiegandogli che secondo lei Deva è al sicuro perché ormai Gulcemal si è innamorato di lei e anche lei ricambia. Ibrahim però rimane sconvolto. Deva non sa ancora di essere la figlia di Mustafa e tantomeno che sia stato proprio Gulcemal ad ucciderlo. Per lui quindi è allarmante che i due vivano insieme e che addirittura sembrino innamorati. Firuze cerca di difendere Gulcemal, in realtà è un bravo uomo e lei stessa lo ha cresciuto. Questo però è un altro motivo di risentimento per Ibrahim. Lei ha abbandonato Deva rifiutando di crescerla ma ha deciso di prendersi cura invece di Gulcemal solo per vendicarsi di Zafer. Tutto questo però per Ibrahim perde di importanza. Quel giorno stesso andrà a riprendersi Deva e finalmente la porterà via da quella situazione. Finalmente Yelda riesce a rubare il video dell'incontro tra Zafer e Deva e va subito da Gulcemal per consegnarglielo. Intanto Ibrahim arriva a casa di Gulcemal infuriato e determinato a portare via Deva, nonostante Firuzello implori di non farlo. Lo stesso Gulcemal aspetta l'arrivo di Yelda per prendere il video. Proprio mentre Yelda va via da casa di Gulcemal incrocia Ermullà e Zafer andati loro anche lì. Yelda si nasconde subito ma Ermullà sembra proprio averla riconosciuta. Finalmente Gulcemal può vedere il video che secondo lui dimostrerà che Deva è una spia. Deva, innocente e desiderosa di rivalza, lo convince a farlo vedere a tutti. Tutti quindi guardano il video della palese innocenza di Deva dove la ragazza si scaglia contro Zafer. Gulcemal rimane senza parole mentre proprio dietro di lui Zafer osserva soddisfatta la disfatta del figlio. Deva è anche lei soddisfatta ma anche delusa per essere stata accusata da Gulcemal che nel mentre non riesce neanche a guardarla per la vergogna. Deva lo rimprovera, lei è stata rapita e nonostante tutto ha imparato a fidarsi di lui e a rispettarlo mentre lui non ha avuto alcuno scrupolo nell'accusarla al primo sospetto. Gulcemal allora le chiede il perché abbia cercato di scappare se si fidava di lui. È il momento per Ibrahim di intervenire e spiega lui le azioni della figlia. Deva avrebbe dovuto sposarsi e tutti hanno creduto che lei abbia abbandonato il suo fidanzato per scappare con un uomo ricco rimanendo così disonorata. Gulcemal che non aveva idea di tutto ciò rimane impassibile guardando Deva che va via con Ibrahim. Sia Deva che Gulcemal sono distrutti. Chi invece gongola di questa situazione è Zafer che finalmente fa il suo ingresso deridendo il figlio. Firuze si nasconde subito per non farsi riconoscere. Zafer neanche se ne accorge perché deve finalmente riprendersi a Armagan. Gli confessa quindi la triste verità. Suo padre Mustafa non è morto per una malattia ma è stato assassinato ed è stato proprio Gulcemal ad ucciderlo. Armagan appresa la verità e va via con sua madre. Sia lui che Deva hanno definitivamente abbandonato Gulcemal che distrutto si arrende. Non corre a riprendersi Deva e non spiega nulla ad Armagan. Nonostante Firuze e Vefa cerchino di spronarlo ad agire Gulcemal decide di non fare assolutamente nulla e di rinchiudersi invece nel suo dolore. Ancora vicino alla casa Ermullà riconosce Firuze. Non sa ancora chi sia realmente lei ma si ricorda di averla già incontrata in ospedale quando Ibrahim era ricoverato. Ibrahim porta le sue figlie nella vecchia casa di suo padre che considera un posto sicuro e soprattutto lontano da Zafer e Gulcemal. Anche se Deva è finalmente libera però non sembra affatto gioire della ritrovata libertà. La tristezza per essersi separata da Gulcemal sembra sopraffarla. Dopo l'incontro disastroso con Zafer, Gulendam si abbandona alla sofferenza più profonda. Non riesce neanche a camminare verso casa e sviene per strada colpita da un attacco epilettico. Mentre Gulendam viene soccorsa dai passanti, Mert sta già scappando in taxi. Ormai ha capito che dimostrata l'innocenza di Deva, il prossimo ad essere accusato di essere la spia è proprio lui. Proprio mentre sta scappando però riceve la telefonata di una delle persone che sta soccorrendo Gulendam. La donna sta per essere trasportata in ospedale e Mert prende la decisione di tornare subito indietro da sua moglie. Ermoulin informa Zafer di aver riconosciuto Firuzet anche se non sa ancora chi sia. Per Zafer ogni informazione è importante e lo incarica subito di indagare sull'identità della donna. Mentre Ermoulin si mette al lavoro nota la scomparsa della pendrive con il video di Deva e Zafer e capisce subito che solo Yelda avrebbe potuto rubarla. Mert porta a casa Gulendam appena dimessa dall'ospedale. Gulcemal, vedendo la sorella sofferente, si preoccupa subito e la scorta in camera insieme a Mert. Tornato a casa, Armagan decide di chiedere informazioni a Zafer sulle foto e la lettera che aveva trovato tempo prima. Ovviamente Zafer gli mente e gli dice che i bambini nella foto sono semplicemente dei lontani parenti di cui praticamente non sa nulla. Riguardo la lettera invece dice una mezza verità. È vero che quella sia stata scritta dalla prima moglie di Mustafà ma dice di non avere idea di chi possa essere la loro prima figlia di cui si parla nella lettera. Ovviamente la figlia di cui si parla è Deva ma Zafer non ha intenzione di confessarlo ad Armagan. Ibrahim arriva con le figlie alla casa isolata appartenuta a suo padre. La casa è in pessime condizioni e tutti insieme cominciano a renderla abitabile. Durante una pausa dalle polizie, Ipek e Deva confessano ad Ibrahim quanto pensano di aver scoperto sulla vita di Gulcemal. Anche loro sono convinte che sia il figlio di Mustafà e di avere molto sofferto. Ibrahim però spiega loro che in realtà Gulcemal è figlio di Zafer, abbandonato insieme a sua sorella quando lei decise di scappare con Mustafà. Zafer e Mustafà sono sempre stati innamorati ma la famiglia di lei ostacolò la loro unione. Infatti Zafer fu costretta a sposare il padre di Gulcemal, Saim. Nonostante Zafer abbia poi avuto Gulcemal e Gulendam, al ritorno di Mustafà ha deciso di tornare da lui lasciando marito e figli. Saim si tolse la vita per la depressione e Gulcemal lo vendicò uccidendo Mustafà. Ipek e Deva sconvolte vorrebbero informare subito Armagan ma Ibrahim le fa desistere. Quando poi le ragazze gli chiedono della lettera della prima moglie di Mustafà, Ibrahim fa finta di non sapere nulla. Sconvolto per come sia tornata a casa Gulendam, Gulcemal interroga Mert. Perché Gulendam era così sconvolta tanto da sentirsi male? Mert si ricorda della strana telefonata ricevuta dalla moglie a colazione, ma ammette di non averle chiesto chi l'avesse chiamata. Il menefreghismo di Mert colpisce Gulcemal che lo umilia davanti a Vefa, dicendogli di essere solo un rifiuto, meritevole di vivere tra la spazzatura. Mert si offende tremendamente fino a piangere. Quasi aggredisce Gulcemal, il ragazzo è orfano ed è stato abbandonato da neonato proprio in un bidone della spazzatura. Le parole di Gulcemal quindi lo hanno ferito molto. La reazione di Mert tocca a Gulcemal che si scusa per averlo schernito in quella mariera. Ermullà ha l'occasione di prendere in scacco Ielda. L'accusa subito di essere una spia di Gulcemal pensando di ottenere le risposte che vuole, ma non ha fatto i conti con la furbizia di Ielda, che subito in lacrime confessa di aver solo eseguito gli ordini di Armagan. Il ragazzo le avrebbe chiesto di consegnare il video a Gulcemal per proteggere Deva. Ielda rincara poi la dose, ricordando ad Ermullà di lavorare giorno e notte solo per mantenere suo figlio e non ha tempo né interesse di mischiarsi nelle trame e nelle rivalità tra Zafer e Gulcemal. Quando poi Ielda lo abbraccia, Ermullà decide di far cadere i suoi sospetti. Tramite le informazioni ricevute da Mert, Gulcemal e Wefa decidono di richiamare il numero da cui Gulendam ha ricevuto la chiamata a colazione. Al telefono risponde Zafer e Gulcemal va su tutte le furie. Prende la sua pistola ed esce subito da casa. La meta di Gulcemal è proprio casa di sua madre. Anche se le guardie cercano di fermarlo e gli si para davanti anche Ermullà, Gulcemal arriva proprio davanti a Zafer che accetta di parlare con lui. Gulcemal la minaccia. Può tramare contro di lui, ferirlo, intromettersi nei suoi affari e anche cercare di ucciderlo, ma mai e poi mai dovrà azzardarsi di nuovo ad avvicinarsi a Gulendam. Zafer però sa bene come ferire il figlio. Gli attribuisce infatti tutta la colpa. È lui che ha avvicinato Armagan e se lo avesse lasciato stare lei non avrebbe mai incontrato Gulendam. Rincara la dose dicendogli che lei non lo ama, non lo ha mai amato e mai lo amerà. Gulcemal è ferito dalle sue parole ma riesce a maledirla. Neanche Allah riuscirà mai a perdonarla se prima non avrà chiesto scusa a lui e Gulendam. Intanto i giorni passano e trascorre un mese. I pensieri di Deva sono ancora tutti per Gulcemal. Lo sogna e desidera che lui la vada a prendere. Ipek capisce che la sorella nutra dei sentimenti per Gulcemal e cerca di farla ragionare, ma Deva nega tutto. Mentre è in giardino, a pensare, si intravede da lontano Ermullah che ha finalmente scoperto dove si nasconde Deva. Gulcemal vive il suo dolore in solitudine stando lontano anche dalla sua famiglia. Non ha contattato Armagan per spiegargli le sue ragioni né tantomeno ha cercato Deva per riconquistarla. Un giorno decide di andare al cimitero a trovare suo padre Saim. Qui, proprio mentre sta per andare via, incontra Armagan e Zafer. Armagan è terribilmente in collera con lui. Non solo ha ucciso suo padre, ma lo ha anche preso in giro presentandosi come una persona di cui potersi fidare. Gulcemal non è ancora pronto per parlare con lui e quasi non parla. Gli offre solo la sua pistola e lo invita a vendicarsi. Zafer rimane sconvolta, ha paura che Gulcemal corrompa il suo figlio prediletto, inducendolo ad ucciderlo. Armagan prende la pistola e gliela punta contro. È così arrabbiato che sembra voglia sparargli veramente. Sotto l'insistenza della madre, però, decide di non farlo. Mette via la pistola e va via. Gulcemal torna a casa e finalmente sembra essersi come risvegliato dal torpore in cui è stato per un mese. Non ha intenzione di perdere la guerra contro sua madre. Terminano così queste emozionanti anticipazioni della Rosa della Vendetta del 15 settembre. Io sono Stefania, come sempre vi aspetto nei commenti per parlare di quanto abbiamo detto e, come sempre, con il prossimo video di anticipazioni. Vi mando un abbraccio e presto!